Ucraina, Ucraina, Roberto Saviano ci parla di Vladimir Putin, ok? Ucraina, Ucraina, Roberto Saviano ci parla di Vladimir Putin. Ho visto un bellissimo frame, uno spezzone di una bellissima trasmissione sulla sette gestita dal conduttore televisivo Giovanni Floris. Nello spezzone, nel frame che io ho visto e ascoltato e che vi metterò come link nel riassunto di questo video, Roberto Saviano ci parla delle persone che sarebbero state fatte assassinare da Vladimir Putin, Vladimir Putin, persone, giornalisti, qualche oligarca dissidente. Bene, allora io qua, io, 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 Serafino Massoni, eccomi qua Roberto Saviano, vedi Serafino Massoni, sono nato a Volta Mantovana nel febbraio 1940, nella prima decada di febbraio 1940 ho già compiuto i miei bravi 82 anni, eh Roberto Saviano? E opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 12 milioni di visualizzazioni. Questa, caro Roberto Saviano, è la mia ultima opera, eh? Vedi che da una parte c'è la stella di Davide, dall'altra la croce uccinata, perché il marinaio delle Antille è un romanzo storico ambientato dentro il terzo laio. Allora, vediamo un po' com'è la situazione, vediamo un po' com'è la situazione. Ah, vorrei premettere, vorrei premettere, vorrei premettere che, come premessa, vorrei informare Roberto Saviano e i miei ascoltatori, ma anche Giovanni Floris, che c'è una bella recentissima analisi di Sergio Romano sulla guerra in Ucraina, eh? È un'analisi di Sergio Romano del 3 marzo 2022, cioè a guerra già iniziata, eh? Capito? Roberto Saviano, capito? Giovanni Floris, Giovanni Floris, Roberto Saviano, lo sapete chi è Sergio Romano, eh? È stato un grande ambasciatore, attualmente è un analista politico di fama internazionale, scrive sul Corriere della Sera, non è un terrorista Sergio Romano, senti Roberto Saviano cosa scrive, cosa scrive Roberto Saviano, senti, cosa scrive, senti Roberto Saviano, cosa scrive Sergio Romano. Dunque, allora, allora, io scrive Sergio Romano, attento, eh? Roberto Saviano, attento, eh? Giovanni Floris. Io, Sergio Romano, credo che se avessimo in qualche modo aiutato Putin, per esempio, senza insistere per l'allargamento della Nato fino ai confini della Russia, beh, tutto sarebbe stato probabilmente diverso e meno imbrogliato. Ripeto oggi, scrive Sergio Romano, ripeto oggi quanto ho avuto modo di affermare in tempi non sospetti, e cioè la collocazione che intravedo come desiderabile per l'Ucraina era quella della neutralità. Il paese doveva diventare neutrale. E continua Sergio Romano, che non è un terrorista Sergio Romano, eh? Scrive sul Corriere della Sera, è un analista politico di fama internazionale. Continua Sergio Romano, è stato completamente irragionevole prospettare la possibilità dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Hai sentito Roberto Saviano? Ma non finisce qua. Senti cosa dice Sergio Romano della Nato. Perché la Nato è una organizzazione politico-militare congegnata per fare la guerra? Hai capito? Hai capito Roberto Saviano? Hai capito Giovanni Floris? Cosa scrive Sergio Romano? Hai capito? Perché la Nato è una organizzazione politico-militare congegnata per fare la guerra. Fare la guerra quando in gioco ci sono gli interessi del dominus dell'alleanza atlantica. Stati Uniti. Ora, se Washington punta all'ingresso dell'Ucraina nella Nato vuol dire che la guerra può essere portata alle frontiere della Russia. Questa è comunque la percezione di Mosca di cui non si può non tener conto. Ritengono che si tratti di una preoccupazione in qualche modo fondata e non l'ossessione di Putin. Cioè, nella federazione russa si ritiene che la preoccupazione sia fondata e che non ci sia nessuna ossessione da parte di Putin. Ma senti Giovanni Floris, senti Roberto Saviano. Ma hai sentito cosa scrive Sergio Romano della Nato? Ma hai sentito? Perché la Nato è una organizzazione politico-militare congegnata per fare la guerra. E fare la guerra quando in gioco sono gli interessi del dominus dell'alleanza atlantica. Gli Stati Uniti. Senti Roberto Saviano, senti Giovanni Floris. Io l'articolata di Sergio Romano la metto come linea e risulto di questo video. Bene. Fatta questa ragionevole premessa, carissimo Roberto Saviano. Ah, guarda Roberto Saviano. Io qua preciso ulteriormente che ho scritto tante opere, eh, Roberto Saviano. Ho scritto tante opere. Questa è soltanto la mia ultima opera, eh. Un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. La vedi la stella di David? La vedi la croce uccinata? Devo precisare che benché io abbia scritto tante tante opere, non sono mai stato io Serafino Massoni. Non sono mai stato io Serafino Massoni condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Capito Roberto Saviano? Capito Giovanni Floris? Io, Serafino Massoni, non sono mai stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Lo sai Giovanni Floris? Cosa voglio dire? Tu lo sai Giovanni Floris? Cosa voglio dire io? E tu Roberto Saviano? Lo sai cosa voglio dire io? Dicendo che io Serafino Massoni non sono mai stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Tu mi capisci Roberto Saviano? Tu mi capisci Giovanni Floris? Beh, diremmo innanzo, diremmo innanzo, andiamo avanti. E Vladimir Putin? Ma lo sai Roberto Saviano che Vladimir Putin non è diventato il capo, il leader, il signor Zara della federazione russa con la violenza? Lo sai Roberto Saviano come ci ha dato il potere Benito Mussolini? Lo sai? Oio di Dicino e manganerlo. Anche Adolf Hitler è andato il potere così. Sì sì, ci sono state delle elezioni, ma le SA e le SS ci pensavano loro a fare gare dritto il popolo che andava a votare. Ah beh, ma anche Stalin non è mai andato al potere con l'olio di Dicino e manganerlo. E Vladimir Putin non è andato al potere con l'olio di Dicino e manganerlo. È il testimone che l'ha passato Boris Yeltsin. E poi di volta e volta è sempre stato confermato al potere. E che male c'è? E sono organizzazioni statali fatte così. C'è gente di male. Qua da noi ogni quattro anni, cinque, sei, sette anni si cambia il campo dello Stato. Da noi ogni sette anni negli Stati Uniti, ogni quattro anni. Negli Stati Uniti si cambia il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica ogni quattro anni negli Stati Uniti. Però negli Stati Uniti, lo sai Roberto Saviano, che benché ci sia la rotazione ogni quattro anni del capo dello Stato, in Russia no. Negli Stati Uniti c'è la rotazione. Lo sai che ci sono i conflitti razziali? Ti l'hanno mai insegnato Roberto Saviano che negli Stati Uniti ci sono i conflitti razziali? Ogni tanto viene ammazzato qualche nero. Lo sai o non lo sai? È vero che ci sono i conflitti dentro gli Stati Uniti, anche se la democrazia degli Stati Uniti prevede che ogni quattro anni ci sia il cambio alla White House, può essere anche una conferma, però ogni quattro anni, ma ogni otto anni si cambia. Però ci sono i conflitti razziali, come mai? Muore tanta gente per i conflitti razziali, eh? Roberto Saviano, muore tanta gente negli Stati Uniti. Lo sai che c'è un grande movimento di armi negli Stati Uniti? Chiunque può comprare il bazooka? Chiunque può comprare il bazooka? E là c'è la democrazia, c'è il cambio continuo dei leader. E in Italia? Ogni sette anni in Italia cambiamo il capo dello Stato. Però dove la mettiamo la strage di Bologna? Dove la mettiamo la strage di Bologna? Nella democrazia italiana? Ogni sette anni si cambia il leader, si cambia il leader. Però c'è stata la strage di Bologna. Chi è che l'ha fatta la strage di Bologna? Nella democrazia italiana chi è che ha fatto il suo padre per l'aria Falcone e Borsellino? Chi? 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 Chi è Roberto davvero? Non è questo il modo di giudicare se uno Stato è buono o uno Stato cattivo? Non è sulla base della rotazione del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato che si può giudicare se uno Stato è buono o uno Stato è cattivo? Perché con tutto rispetto per la democrazia americana dove ogni quattro anni c'è il ricambio alla White House. Ma ci sono tante brutte cose dentro gli Stati Uniti, c'è un movimento di armi, c'è? Ci sono di quei conflitti razziali, eh? Capito Roberto Doviano? Capito? Guardami il Putin si dice che abbia fatto fuori dei giornalisti e degli oligarchi. Sì, vabbè, 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 però non è andato al potere con odio di ricino e manganello, è vero? È vero Roberto Saliano? È andato al potere democraticamente. E adesso circa poi la democrazia in Italia ti ripeto, dove la mettiamo la strage di Bologna? Quante vittime ha fatto la strage di Bologna? Eh? Alla stazione di Bologna? Quante vittime ha fatto? Ha fatto più vittime la strage alla stazione di Bologna? O Vladimir Putin con degli oligarchi o dei giornalisti? Eh? Bettoviano? Adesso arriviamo all'Ucraina. Ma ci vuole tanto Roberto Saliano e Giovanni Floris a capire che nucleina doveva restare uno stato neutrale? Eh? Giovanni Floris, Roberto Saliano, ma te lo ricordi l'anno 1963, Roberto Saliano, Giovanni Floris, quando Khrushchev voleva installare i missili i missili nucleari a Cuba, a Cuba dove c'è la baia dei porci, lo sai? Lo sai cos'è la baia dei porci? Roberto Saliano? Joseph Kennedy, John Kennedy che voleva fare la baia dei porci? e Khrushchev voleva installare i missili nucleari a Cuba e John Kennedy ha detto no, non siamo contenti e allora Khrushchev voleva tirare via i missili da Cuba se li ha riportati a casa. Così doveva fare l'Ucraina. La federazione russa ha detto all'Ucraina, Ucraina, noi della federazione russa non siamo contenti che tu entri dentro la NATO e che porti dentro la NATO i missili della NATO, non è nato di gentilezza. E allora l'Ucraina poteva dire sì, io Ucraina sono uno stato sovrano, uno stato autonome, però voglio restare neutrale come la Svizzera, come la Confederazione d'Utria. Lo sai Roberto Sapiano e Giovanni Floris, lo sapete che gli svizzeri sono tutti felici e contenti di stare in uno stato sovrano, autonomo e neutrale? Cosa c'era di male? E poi l'ha detto Sergio Romano, l'ha detto. Ehi là, ehi là! Roberto Troviano, ma lo sai che queste stesse cose che ora ora ha detto Sergio Romano, tempio fa l'aveva dette pure Henry Kissinger? Informati, informati, informati! Enrico Kissinger, potentissimo segretario di Stato di tantissimi presidenti americani, aveva detto per me, Enrico Kissinger, la soluzione dell'Ucraina è quella della finlandizzazione, cioè della neutralità. Roberto Saviano, il marina dell'Ucraina, la stella di Davide, la croce uncinata. Ed ora si ducisi in fondo, last, but not least. Lo sai che l'Ucraina si era rivolta alla stella di Davide, allo Stato di Israele, per comprare il potente sistema missilistico israeliano? Cupola di ferro! Cupola di ferro! E lo Stato di Israele, la stella di Davide, ha detto no! Beh, chiudo! Giovanni Floris, conduttore televisivo della Sete, Roberto Saviano, a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti dal marinaio di Attille!